Capitolo 18. L'esperienza dei nostri tempi mostra che hanno fatto grandi cose quei principi che hanno tenuto in scarso conto la parola data e che hanno saputo raggirare con l'astuzia i cervelli altrui. Alla fine questi principi sono stati superiori a quelli che non hanno fatto ricorso a inganni. Dunque dovete sapere che ci sono due modi di combattere, l'uno con le leggi, l'altro con la forza. Il primo è proprio dell'uomo, il secondo delle bestie. Ma siccome il primo molte volte non basta, bisogna ricorrere al secondo. Perciò a un principe è necessario saper usare bene sia la bestia sia l'uomo. Alla prossima.